La palla non ti vuole, andate bene via! La prossima palla direi, io vi ho avvisato, eh ragazzi! Che paura! Siamo venuti a dire che i razzisti e gli amici del Capitale noi non li vogliamo. Siamo venuti a dire che il mondo dove il diritto di circolazione è garantito alle merci, ai capitali e alla delocalizzazione del lavoro è denegato alle persone, è il mondo contro il quale noi lotteremo sempre. Indubbiamente lui risponde a un elettorato e anche a poteri forti che sono favorevoli all'opera. Su questo tema si sta saldando un arco di forze, i cosiddetti fautori del PIL, il partito del PIL che c'è dentro dalla Lega a Forza Italia al PD che faranno di tutto per riuscire a schiacciare i 5 Stelle. Sulle barriga del Sperzola, la bandiera dei Notà!